Sarà una parata festosa con carri e musica, ma non a volume così alto da poter ballare per rispettare le restrizioni anti-Covid. Il Salento e Puglia Pride 2021, il programma Brindisi sabato pomeriggio, deve fare i conti con la pandemia, ma punta anche a riprendersi quella dimensione di allegria, ingrediente essenziale per una manifestazione che resta di rivendicazione dei diritti civili e sociali fondamentali per tutti i membri della comunità arcobaleno, salentina e italiana. Siete tutti e tutte invitati a contribuire al colore, a rendere vivo quello che è la nostra battaglia politica e in vista, come sappiamo tutti e tutte, rispetto alla famosa legge ZAN che deve ancora passare all'interno delle Camere. La dunanza è prevista per le ore 15.30 del 21 agosto in Viale Togliatti, nei pressi del Palazzo di Giustizia, mentre la parata partirà alle 18 e percorrerà Viale Aldomoro, Corso Roma, Via Indipendenza, Piazza Cairoli, Corso Umberto e Corso Garibaldi. In tutte le strade interessate, dal passaggio del corteo, sarà vietato transitare e anche parcheggiare o sostare. Vi aspettiamo tutti e tutti, non dimenticando che il Pride è una manifestazione politica, è una manifestazione in cui si rivendicano dei diritti ed ecco perché potrete leggere il documento politico nell'evento Facebook o sui social. Il titolo di questa manifestazione appunto è Corpi senza confini e questo vogliamo manifestare, corpi politici, corpi che hanno il coraggio di essere se stessi senza che nessuno ci metta delle barriere e dei confini.